eccolo non aggredirlo come tu solito alla sua età eri peggio di lui lascia parlare si va bene simone però dai potevi farla una telefonata no dai che tuo padre ci siamo spaventati sai le condizioni no no stavo una festa guarda guarda le condizioni ma io dico ma tu hai la capacità ti rendi conto di quello che hai fatto tu sei andato in giro in vespa in queste condizioni di notte ma chiamavi me chiamavi nonna ti venivo a prendere è pericoloso non lo capisci questo ancora che pericolosa non c'è nessuno a Roma adesso non ho capito cosa cosa dire non c'è nessuno a Roma adesso sì vabbè mamma mi fai un favore prepara un litro di caffè grazie allora tu adesso ti bevi un litro di caffè e così vomiti tutto e poi vai a scuola non voglio andare a netto no 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 tu vomiti tutto e vai a scuola o preferisci che ti metta due dita in guola ecco si può avere corretto ma vaffanculo una larva umana una larva umana c'è qualcuno e poi così il tuo ritorno ecclissi in un balsiasi mezzogiorno Mi trasformo il tuo ritorno sentito si mi someplace bella qui i i my i Grazie a tutti